Sono iniziate mercoledì e termineranno martedì 22 maggio le finali nazionali del Gran Premio giovanissimi di scherma dal Play Hall di Riccione. Oltre 3.300 i finalisti, tra i quali anche 9 della Podigi Mavellino. Nella giornata di apertura per gli Irpini è scesa in campo, nel Fioretto categoria giovanissime Stefania Vozella, partita con i favori del pronostico ma arrivata solo 64esima. Il giorno successivo è toccato a Pierpaolo Troise, nella sciabola categoria maschietti, classificatosi 87esimo. Molto bene Francesca Festa nella categoria allieve, arrivata addirittura 40esima. Nella giornata di ieri buona prova di Massimo Ricci per la sciabola maschile categoria ragazzi. Dopo un brutto avvio è riuscito a superare la fase a Gironi per poi vincere la diretta di qualificazione alle fasi finali per cui 15 a 14. Sfortunatamente Ricci non è riuscito successivamente a battere l'ottavo in classifica generale. Infine, nel Fioretto categoria bambina, senza storia la gara di Ginevra De Falco, che è entrata nella seconda fase di Girone per poi però classificarsi al 118esimo posto. Oggi, gare di Fioretto categoria ragazzi per Matteo Iserna e Flavio Acunzio, mentre domani sarà giorno di stop per l'Assemblea federale alla quale parteciperanno tutti i presidenti delle società.